L'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria stamane nei confronti di 12 affiliati alla Cosca Piromalli di Gioia Tauro, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni, truffa e altri reati aggravati dalle finalità mafiose. L'intervento, che segue a meno di un mese il fermo di 33 persone organiche al sodalizio di Gioia Tauro, emesso dalla stessa procura, ha previsto il contestuale sequestro preventivo di beni per un valore di circa 50 milioni di euro, tra cui il noto consorzio Copam di Varapodio, costituito da oltre 40 aziende cooperative agricole operanti nella piana di Gioia Tauro, nella Sicilia orientale e nel Basso Lazio. Le risultanze contenute nell'odienza ordinanza cautelare certificano ancora una volta le dinamiche associative gli assetti mafiosi della cosca Piromalli, evidenziando il ruolo apicale dei fratelli Piromalli Giuseppe, classe 48, detto Facciazza, attualmente detenuto presso il carcere dell'Aquila, e Piromalli Antonio, classe 39, detto Ucatanisi, in grado di orientare gli equilibri criminali dell'intero mandamento tirrenico e di condizionare il locale tessuto economico imprenditoriale con particolare riferimento ai settori agroalimentare e turistico ricettivo. L'indagine ha accertato come Giuseppe Piromalli, benché da anni ristretto in regime detentivo speciale, attraverso i periodici colloqui con i familiari e facendo leva su un'efficiente filiera comunicativa, fosse in grado di veicolare all'esterno ordini e messaggi. In tale contesto, altro ruolo carismatico in seno alla cosca è stato evidenziato quello di Piromalli Antonio, defilato sotto il profilo strettamente operativo ma ancora molto influente. Le investigazioni del ROS hanno messo in luce anche le infiltrazioni dell'organizzazione criminale sia nel settore agroalimentare, documentando le infiltrazioni trasnazionali strumentali allo sviluppo di tali importanti traffici commerciali che nel settore turistico ricettivo attraverso ingenti investimenti di denaro, in provenienza illecita nell'acquisto di strutture alberghiere ubicate in zone costiere. Tra le persone finite in manette Careri Domenico classe 62, Careri Gioacchino classe 91, Comerci Nicola Francesco classe 47, Cordi Teresa ai domiciliari classe 74, Ferro Cinzia ai domiciliari classe 73 e ancora Minniti Vittorio con obbligo di dimora classe 88, Mole Michele detto Michelino classe 66 in carcere, Piromalli Antonio Ucatanisi ai domiciliari classe 39, Scarpa Rirocco classe 1969 in carcere, infine Sciacca Annunziata classe 68 in carcere, già detenuti invece Piromalli Giuseppe e Trimboli Giuseppe.